Patrizia Petra, vicepresidente di questa associazione FEMA che è aderito all'iniziativa Human Library in occasione della giornata mondiale per la salute mentale. In mattinata davanti a Palazzo Lombardia, poi sarete nel pomeriggio davanti a Palazzo Marino, dentro Palazzo Marino, perché avete deciso e come può aiutare questa iniziativa le persone che hanno questo disagio? Allora, questa iniziativa aiuta le persone che hanno questo disagio nel senso che li valorizza e gli permette attraverso un percorso di formazione di raccontare la propria storia. In realtà l'iniziativa è rivolta ai cittadini che hanno desiderio di conoscere un po' meglio che cosa possa essere il disagio mentale, verso cui c'è un pregiudizio e verso cui c'è uno stereotipo. In realtà il disagio mentale in diversa misura è qualcosa che può esserci molto vicino a un familiare, può far parte anche di un momento della nostra vita, una fragilità, un disagio, una disabilità mentale, amici, parenti. Che cos'è il disagio mentale? Lo possiamo ascoltare da un libro che ce ne parla, perché sa che cos'è, perché lo ha vissuto e ha vissuto su di sé anche lo stereotipo e il pregiudizio che c'è nei confronti dei matti, li vogliamo chiamare, ma diciamo il disagio mentale. Quindi oggi sono gli stessi pazienti, diciamo così, a raccontare la loro esperienza? Per lo più pazienti, persone utenti che hanno disagio mentale o che lo hanno attraversato e anche qualche esperto, psicanalista, terapeuta, operatore. Cosa c'è ancora da sapere e soprattutto da fare per superare questi pregiudizi? Ma c'è da conoscerlo, c'è da considerarla probabilmente una malattia come tante altre e quindi non qualcosa di particolarmente strano e poco noto. C'è da fare molto perché destigmatizzare questa malattia e quindi permettere alle persone che hanno un disagio come qualsiasi altra forma di disabilità e di disagio, può aiutare loro a integrarsi, a far parte della società e a tutti gli altri ad arricchirsi perché questo tipo di disagio è anche una grande ricchezza. In mattinata qual è l'esperienza più forte che è emersa e soprattutto i cittadini come l'hanno vissuta da parte? I cittadini si incuriosiscono, vengono, si registrano come fosse una qualsiasi biblioteca, questo è un format che noi riproduciamo qui ma che è stato inventato in Danimarca, Human Library, vengono, si registrano, ascoltano questo racconto, interagiscono nel racconto e poi scrivono essi stessi una recensione per cui abbiamo tutte le recensioni dei libri che sono stati letti.